Ancora una brutta caduta frena Rinaldo Nocentini. Non bastava l'infortunio patito ad inizio stagione, frutto della caduta nel corso della prima tappa del Giro del Mediterraneo. Un impatto a dir poco violento contro un'auto e stando al racconto di alcuni testimoni, il Noce avrebbe potuto riportare conseguenze ancora più gravi se non avesse indostato il caschetto protettivo. Secondo una prima ricostruzione, quanto affermato alla moglie Manola, Nocentini era in gara nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, quando nel corso di una discesa, per evitare una borraccia rimasta in mezzo alla strada, ha cambiato repentinamente direzione, andando a sbattere contro un'automobile. L'impatto violento contro il mezzo e poi sull'asfalto hanno causato al 36enne retino e scoriazioni su tutto il corpo e un dolore lancinante alla spalla sinistra. Al momento Nocentini si trova in ospedale per ulteriori accertamenti e non è da escludere un intervento chirurgico alla spalla infortunata. Davvero una stagione sfortunata per il ciclista della Gide Zerla Mondial che aveva iniziato questo 2014, nonostante l'infortunio alla mano destra, con alcuni piazzamenti di tutto rispetto.